Nuova ordinanza interregionale firmata dai presidenti di Veneto, Friuli, Emilia Romagna, ecco cosa cambia. Avanza il Covid nell'area dell'Ulsset Pedemontana, oltre 7 mila casi e due morti. Tamara Bizzotto, l'assessore stromesso, interviene e dice, quanto è successo un fulminaccio al sereno? Fermato da due giovani che gli chiedono soldi e lo strattonano, via i soldi ma gli restituiscono il cellulare perché è rotto. Un tavolo di sicurezza è chiesto dai sindaci del campo a San Pierese, la regione intervenga sulla regionale 308. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione serale di Bassano Tg. Parliamo subito di Covid-19 perché oltre i 2000 casi di questa mattina si registrano altri 1260 positivi nella regione del Veneto. Quindi vediamo subito la tabella che ci mostra che abbiamo un totale accumulativo di 55.629 attualmente positivi in Veneto. Scorriamo come di consueto la tabella di ricoverati, vediamo che ci sono 29 ricoverati in area non critica, quindi saliamo a 1792 pazienti ricoverati. Tre sono in più rispetto a questa mattina, sono in terapia intensiva, quindi siamo a 216 pazienti positivi ricoverati. Registriamo un delta di decessi molto alto che parla di 23 decessi nel pomeriggio di oggi. Vediamo anche i dati dell'emergenza coronavirus dell'Ulss 7 Pedemontana. Crescono ancora i numeri dell'emergenza coronavirus nell'Ulss 7 Pedemontana. I casi positivi sono 7093, 232 in più rispetto a ieri su quasi 3000 tamponi eseguiti. I ricoverati sono 178, 25 a San Bassiano, 2 ad Asiago, 130 a Sant'Orso e 21 all'ospedale di comunità di Marostica. 15 le terapie intensive impegnate, mentre sono stati segnalati due decessi nelle ultime ore. A Sant'Orso sono partite 7 somministrazioni di plasma autoimmune ai pazienti in rianimazione e in area medica. I presidenti della Veneto, dei Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna hanno scritto un'ordinanza che disciplina commercio, tempo libero e scuole. Centri commerciali, bar, sport e scuole. La nuova ordinanza in vigore da venerdì va a interessare un ventaglio di situazioni che copre quasi ogni aspetto della quotidianità dei cittadini di tre regioni. L'ordinanza è stata varata infatti da Luca Zaia a Braccetto con il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, regioni confinanti e in fascia gialla come il Veneto. Ecco alcuni dei punti salienti del provvedimento. Prima di tutto la mascherina dovrà essere indossata sempre fin dal momento in cui si esce di casa, anche in casa, in presenza di non conviventi. Per quanto riguarda il commercio, chiuderanno nei giorni festivi e prefestivi le medie e grandi aree di vendita, comprese le aree commerciali. Nei festivi chiuderanno anche tutte le altre attività di vendita. Rimarranno aperte farmacie, parafarmacie, genere alimentari, tabaccherie ed edicole. Anche gli esercizi di ristorazione e i bar con i limiti previsti dal DPCM in vigore. Importanti ricadute anche per i mercati comunali che verranno chiusi a meno che non vengano applicati i piani già visti durante la fase critica dell'emergenza. Spazio qui di avarchi, perimetrazione e sorveglianza. La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15 alle 18 la somministrazione e la consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali e in posti regolarmente collocati. Nelle scuole elementari e medie verranno sospese le lezioni di ginnastica e canto. E gli assembramenti nelle località turistiche e nei centri storici? Per quelli la raccomandazione è di evitare di prenderli d'assalto, per evitare situazioni simili a quelle già viste nel fine settimana. Poi spetterà ai sindaci l'eventuale decisione di chiudere o calmerare gli accessi. E Luca Zaia definisce la nuova ordinanza come un fallimento e richiama i Veneti ad una maggiore responsabilità in un momento delicatissimo come questo di emergenza coronavirus. Era stata annunciata dopo le foto e i video degli assembramenti che il presidente della regione Luca Zaia aveva definito imbarazzanti. E puntuale l'ordinanza è arrivata. Su questo tema il governatore è molto chiaro. L'ordinanza è infatti vista come un segno dei tempi ed è dovuta proprio perché il rispetto delle regole viene meno. L'ordinanza è il segno dei tempi. Guardate, l'ordinanza in un mondo che rispetta le regole non serve. Vi è chiaro questo? Deve passare l'idea che l'ordinanza in un mondo dove tutti rispettano le regole non serve a nulla. Ne avrebbe fatto volentieri a meno Zaia di questa ordinanza. Ecco perché. E la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dover scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza dei Veneti si comporta bene. E la vedo anche un po' come un piccolo fallimento sociale. pensare di dover stabilire regole per tutti perché a volte il buon senso non c'è per tutti. Donna gialla, arancione o rossa poco importa a questo punto delle cose perché se i comportamenti non miglioreranno il rischio è davvero fortissimo per tutti. Guardate ragazzi, se qua non ci mettiamo noi di buona lena, pancia a terra, lavorare, tirare tutti nella stessa direzione, parlo di noi cittadini, ma è inevitabile che non è che arriviamo all'area rossa, arriveremo al blocco totale e ci chiuderanno in casa. Noi dobbiamo dare una mano a coloro che sono in ospedale, a quelli che prima ho definito eroi. Se crediamo che sono degli eroi e sono degli eroi, dobbiamo aiutarli questi eroi. E aiutando loro aiuteremo anche tanti cittadini che hanno avuto meno fortuna di noi che possiamo oggi star qui a parlare e abbiamo fiato per parlare. E' un mercato sottotono oggi a Bassano con molte meno presenze in centro, eppure nulla avrebbe vietato, almeno sulla carta, una puntatina in piazza. Noi abbiamo chiesto come verrebbero accolte maggiori restrizioni. Non chiudere tutto, però un po' di regolamentazione ci vuole. Io aprirei qualcosa di più per i ristoranti e per i bar di Remo, fino alle 11 per i ristoranti. Non per tanto tempo, ma lo farei. Quindi lei chiuderebbe ulteriormente? Non chiudere tutto, ma maggior parte bisognerebbe. Le movide, i ragazzi che devono capire tante cose, specialmente per loro e per rispetto agli anziani, che sono le persone più deboli. Adesso dalle 6 è chiuso tutto, è difficile parlare di movide? Appunto, d'accordo, però le movide le fanno lo stesso. Vanno sui numeri, allora si può sospendere uno dei due mercati, qualcosa, ecco. Quello di giovedì lasciarlo, evitare sabato, fare così come misura. Cosa si può fare? Restrizioni e basta. Forse assembramenti di sera, più che altro, quelle cose, ma qui siamo abbastanza disciplinati, penso, perlomeno da parte mia. E vedo che tanta gente, anche se si va in giro, si mantiene la distanza, non siamo così. Secondo me ancora più restrizioni. Per esempio? Non so, il mercato settimanale lo chiuderebbe? Cioè che cosa farebbe se fosse lei? Va, il fine settimana più restrizioni per impedire alla gente che si muova di casa. Se non sono le persone stesse che si autocomandano, che si autoproibiscono di fare certe cose, possono parlare finché vogliono. Io sono stata insegnante, signora, per 40 anni e più. E so che chi vuole fa, e chi non vuole non fa. Ecco, specialmente negli adulti, perché con i bambini è tutta una cosa bellissima. Ma quando cominciano ad essere giovanotti o signorinette, cambiano le cose, si figuri con gli adulti. Paura del lockdown ce l'ho, perché l'economia ormai è a rotoli. Io direi che, vedi adesso, non c'è tanto assembramento per il mercato, non c'è. L'assembramento lo fanno i giovani, nei sabati, nei domenici e pomeriggio, perché vengono in centro e cominciano a bere. Intanto iniziano ad aprire i primi ambulatori per l'effettuazione dei tamponi da parte dei medici di famiglia. A Bassano saranno attivi da lunedì, mentre a Mussolente sono già attivi. A Mussolente è stato attivato il centro tamponi nell'atrio del palazzetto degli impianti sportivi di Casoni. Uno spazio che il Comune ha messo a disposizione dei quattro medici di medicina generale del territorio e al quale potranno accedere solamente coloro che, avendo avuto un contatto stretto con un Covid positivo, dispongono dell'impegnativa del medico per eseguire il tampone rapido. All'esterno del palazzetto è stata allestita una tenda che potrebbe essere usata per le attese e per i primi controlli. Il centro tamponi di Mussolente è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.00. E quello dei tamponi negli ambulatori è un tema molto importante in questo periodo. Quindi vi chiediamo di segnalarci se il vostro medico, in caso di richiesta di eseguire il tampone, ha consentito oppure siete stati mandati in un centro tamponi per eseguire l'esame molecolare. Parliamo ora del rimpasto di giunta a Bassano. Dopo la notizia dell'esclusione del gruppo cittadino, del governo cittadino, parla Tamara Bizzotto, assessore di Bassano, sfiduciato dal sindaco Pavan. Tamara Bizzotto è fuori dalla squadra di governo e 24 ore dopo l'annuncio del sindaco Pavan decide di uscire allo scoperto, raccontando la sua verità, a partire da quell'intervista rilasciata dal sindaco ai nostri microfoni il 28 ottobre. In quell'occasione il primo cittadino smentì quello che ormai era di dominio pubblico. Rimpasto di giunta, si conferma la sostituzione dell'assessore alla sicurezza Tamara Bizzotto con Claudio Mazzocco? Ma queste sono delle voci, mi ha sorpreso anche vedere quell'articolo di giornale questa mattina. Quindi? Quindi non c'è nessuna sostituzione. Il 29 ottobre mi ero recata in ufficio dal sindaco e avevo chiesto per ventre volte se ci fosse qualcosa di vero su quell'articolo e mi è stato risposto niente. Ho anche detto al sindaco che avrei voluto saperlo direttamente da lei invece di saperlo dai giornali se c'era qualcosa che mi riguardava e mi ha smentito, ripeto, per tre volte. Io credo sia imbarazzante un sindaco che oltretutto qualche mese prima mi ha chiesto cosa pensassi delle deleghe alla cultura e che a fine luglio mi ha in qualche modo rimproverata perché l'avevo informata che avevo mandato la disponibilità, la semplice disponibilità a candidarmi alle regionali e lei mi ha risposto che avrei dovuto confrontarmi prima con lei perché mi aveva dato fiducia per cinque anni. Insomma il sindaco avrebbe smentito più volte anche alla diretta interessata ma poi arriva d'improvviso il fulmine a ciel sereno, la telefonata del 6 novembre e la richiesta di dimissioni, una richiesta alla quale Tamara Bizzotto risponde no. Mi fa specie questo atteggiamento perché credo che un sindaco debba mantenere la sua integrità e debba dimostrare con i fatti ma anche con le parole che quello che esprime è vero. Se ripetutamente è stata negata una certa affermazione ma oltretutto è stata anche negata alla maggioranza perché qualcuno ha chiesto ma cosa sta succedendo e il sindaco alla stessa maggioranza ha risposto niente. Botta e risposta a distanza con l'autunno politico che a Bassano è già gelido, freddati 522 bassanesi che hanno votato scrivendo il nome di Tamara Bizzotto sulla scheda, glaciale il comunicato della Lega di Bassano che praticamente chiude la porta in faccia ad un esponente storico, rigido il sindaco nel dare l'annuncio del rimpasto. Un licenziamento, quello della Bizzotto, che lascerà sicuramente una cicatrice nella politica di Bassano. E ci sono nuovi modi per avvicinare i parenti agli ospiti delle case di riposo. Noi abbiamo portato una proposta al sindaco Pavanna che ha subito scritto al direttore dell'ISAC. Ricordate la soluzione che una casa di riposo trevigiana ha proposto per risolvere il problema delle visite agli anziani ospiti? Bene, abbiamo chiesto al sindaco di Bassano Elena Pavan perché questa soluzione non è stata adottata anche nelle strutture dell'ISAC. Ed ecco la sua risposta. Trovo che sia stata un'idea veramente bella e scriverò già nella giornata di domani a ISAC suggerendo, chiedendo loro se possono adottare questo stesso tipo di soluzione. L'aspetto, quello emotivo, quello legato alla persona e alla sua emotività è un aspetto molto importante che sappiamo che può pesare proprio negli anziani che privati dei loro affetti peggiorano e vivono questa situazione già difficile e male. Meglio tardi che mai quindi, ma siamo lieti che l'attività di informazione di Rete Veneta possa tornare utile ancora una volta all'amministrazione di Bassano. La città però guarda con preoccupazione l'emergenza coronavirus negli istituti per anziani. I numeri sono abbastanza elevati, soprattutto per quel che riguarda la sede, quella di casa Sturma. So che comunque la situazione è continuamente monitorata anche da comunicazione di questa mattina del dottor Simoni rispetto al momento un po' di sovraffollamento nell'esecuzione dei tamponi e un po' la difficoltà anche di tracciare uno dei presidi, uno dei posti dove comunque vengono fatti con continuità proprio per tenere monitorato sono le case di riposo. E io chiamo Rete Veneta. Parliamo di una pista ciclabile nuova a Tezze sul Brenta, ma i lampioni non funzionano. Più di qualche telespettatore si è rivolto a Rete Veneta perché la pista ciclabile Tezze-Granella che porta ad immergersi nel verde ha un tratto di strada con otto lampioni privi di luce. Una zona che proprio perché è di relax e riservata potrebbe diventare invece pericolosa, soprattutto dall'imbrunire in poi. Siamo andati a vedere, abbiamo atteso il sindaco in zona chiedendo come mai addirittura i lampioni sono privi di plafoniera. Queste sono lampade a LED, sono corpi illuminanti particolari che hanno subito queste delle problematiche per cui noi abbiamo sollecitato spesso la ditta che ci li ha forniti in modo tale da poterli sostituire. Sono ancora in garanzia per cui abbiamo, come lei può ben vedere, tolto tutto il corpo illuminante ed estratta la parte che deve essere sostituita. Questo è successo lunedì di questa settimana e per fine settimana la ditta fornitrice ci ha promesso che farà sicuramente la sostituzione. Proprio in questi giorni abbiamo approvato il progetto definitivo del quarto stralcio che verrà a breve appaltato e che potrà congiungere via Bassano nel più breve tempo possibile. E siamo alla cronaca con una rapina avvenuta ieri pomeriggio in centro a Bassano, vittima un giovane. Una rapina in pieno centro e in pieno giorno, vittima un giovane italiano di origini magrebine, il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio in Largo Parolini. Il ragazzo stava passeggiando quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti extracomunitari, probabilmente nordafricani, che dopo averlo spintonato gli avrebbero chiesto del denaro. Di fronte al rifiuto della vittima uno dei due avrebbe iniziato a frugargli nelle tasche, da dove sarebbe riuscito a prendere il portafoglio e ad impossessarsi di 40 euro. Quindi sarebbero fuggiti la giovane vittima della rapina a sport o denunce ai carabinieri di Bassano che stanno indagando sul caso. I rischi all'espulsione il peruviano trovato ubriaco dagli agenti del commissariato in viale delle fosse a Bassano. L'uomo, 59enne da molti anni in Italia, proveniente da Pieve del Grappa, aveva deciso dal 2004 di non rinnovare il suo permesso di soggiorno. Al vaglio anche la posizione di chi gli dà lavoro come badante. E parliamo ora di una giovane coppia del comprensorio bassanese, litiga e lei gli rompe il setto nasale con il suo cellulare. È successo la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. I vicini hanno chiamato gli agenti della polizia di Stato per far cessare le urla. E quando sono entrati sul posto la coppia, poco più che ventenne, si era già calmata. E il giovane ha detto che la compagna avrebbe fatto quel gesto in preda alla gelosia perché è sorpreso a guardare film a luci rosse. Parliamo ora di un lutto nel mondo dello sport per una campionessa degli anni 50, prima donna a vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali. Avrebbe compiuto 89 anni il 26 novembre, se ne è andata ieri. Stiamo parlando della marosticense Giuliana Minuzzo, prima donna italiana a vincere una medaglia delle Olimpiadi Invernali, il bronzo in Norvegia in discesa femminile a 21 anni. La si ricorda anche per il suo giuramento olimpico, quale prima donna nel 56 a Cortina. Il suo nome compare anche nella Hall of Fame della Federazione Italiana Sport Invernali. Da anni Giuliana Minuzzo non abitava più a Ballonara di Marostica. Ma si era trasferita ad Aosta. Problemi di sicurezza a causa delle condizioni del manto stradale per la strada regionale 308 e la nuova statale del Santo, soprattutto nel tratto da Loreggia verso Padova. I sindaci del campo sanpierese sono al lavoro con la regione all'interno per preparare un tavolo di discussione. Buche, ammaloramenti, avvallamenti, cedimenti. È in pessime condizioni nell'Alta Padovana, la SR 308, la nuova statale del Santo. Ogni giorno da nord a sud la percorrono 50.000 veicoli, il 50% sono mezzi pesanti. I sindaci della Federazione dei Comuni del campo sanpierese sulle condizioni di questa arteria vitale sono al lavoro con la regione attorno a un tavolo. C'è quindi un peso sulla portata della strada che va in deterioramento continuo e l'amaloramento che si registra, lo si vede a vista, è proprio causato dal traffico pesante. Il problema è naturalmente di cercare di agire sulle infrastrutture e quindi di migliorare la percorrenza attraverso asfaltature, attraverso il miglioramento anche di quelli che sono gli svincoli, che sono le emissioni. Una strada che piange numerosi morti e cui servirebbero anche una nuova segnaletica e una migliore illuminazione. In questi mesi tutti gli autovelox presenti sono stati sostituiti con modelli più efficienti e di nuova generazione. Intanto il tavolo ragiona su un possibile ritocco dei limiti di velocità. A 90 all'ora già è pericoloso correre con quelle condizioni stradali. Quindi se il limite generale della strada è 90, ma le condizioni generali della strada sono perfette, può essere compatibile. Ma nei momenti in cui non si interviene, non si manutenta e non si mette nelle condizioni di viaggiare in maniera tranquilla, ecco che il limite naturalmente diventa necessario intervenire. A luglio Veneto Strada è intervenuta nel tratto trevigiano con alcune asfaltature. La richiesta dei comuni è che queste proseguono anche nel tratto a sud del comune di Loreggia. Sport in casa questa sera condotto da Alex Iuliano. Ci sarà spazio dedicato al benessere e all'attività fisica. Ospite della puntata sarà Laura Mantesso, istruttrice di fitness. 21.15 invece focus. Molti gli ospiti che questa sera interverranno durante la diretta. Parliamo di Pierpaolo Barretta, Massimo Cacciari, Roberto Ciambritti, Andrea Ghergori, Roberto Marcato, Antonino Pimpitone e Federico Sbuarina. Diamo ora il consueto spazio alle previsioni del tempo di domani. Non ci sono altre notizie per questa nostra edizione serale di Bassano OTG. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Cherubin compie 25 anni. La festa continua fino a fine anno. Prezzi mai visti con la qualità di sempre. Da 25 anni prodotti selezionati del nostro territorio. Ben trovati al meteo. L'anticiclone non molla la presa. Venerdì 13 novembre ancora tempo stabile e clima gradevole di giorno. Nel dettaglio sul Veneto inizialmente avremo nubi basse e nebbi. Le zone più a rischio saranno le aree di pianura in generale ma anche i fondovalle prealpini. Con il passare delle ore le foschie tenderanno a diradarsi e daranno luogo a ampie schiarite soleggiate. Ancora probabili nebbie dopo il tramonto. Temperature in lieve calo tra 1 e 7 gradi le minime. Massime invece tra i 12 e i 15 gradi. Vediamo ora come sarà la previsione per la città di Bassano del Grappa. Anche qui condizioni di tempo asciutto e stabile. Anche in questo caso però al mattino sarà possibile qualche foschia ma in rapido dissolvimento lasciando così spazio al sole. Temperature massime infine sui 14 gradi. Dal Meteo di Rete Veneta è tutto. Arrivederci. Prova le cosce nazionali come il cotto Gran Verdi di Parma a 15 euro e 90 al chilo. Le focacce ed il pane cotti a legna da 3 euro e 90 al chilo. Cherubin via Gobbi a Bassano. Grazie per la visione.